E anche oggi avrete la possibilità e l'onore di poter vedere a parte il gruppo di San Rocco e quello di Sant'Adi che sono i nostri insomma della Sardegna, anche il Piemonte, la Romania e il Messico. Inizia comunque il gruppo del paese che ci ospita, il gruppo di San Rocco, con due balli che sono Suvasse Bida e Suvasse Dresi, li accompagna l'organetto Valerio Serra. A voi il gruppo di San Rocco. Grazie. 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 Grazie.